cari amici del web sono il filosofo anzi l'ombra del filosofo parmenide di elea parmenide di elea era una bella cittadina fondata dai focesi nel 540 avanti cristo proprio alla foce del fiume alento alento oggi invece si chiama marina di ascea e io devo ho deciso di intervenire qua sul web sul web per darvi una notizia allarmante allarmante da che mondo è mondo eravamo tutti sicuri che in nulla in nulla non ci fosse non ci fosse in nulla tanto è vero che la filosofia in pratica inizia con la mia cerebrima frase l'essere è il non essere non è il non essere non è l'essere è il non essere non è non è beh sapete e poi il mio collega e discepolo Emanuele Severino lo sta predicando anche oggi l'essere è il non essere non è e sostiene giustamente Emanuele Severino che la folia dell'occidente consiste nel fatto di pensare che ci sia che ci sia nulla in pratica la folia dell'occidente è questa questa la folia dell'occidente però a livello logico è il non essere cioè nulla non esiste non esiste e eravamo tutti sicuri tutti sicuri che il nulla non esistesse e lo ha dimostrato lo ha dimostrato lo stesso e lo stesso Emanuele Severino in tutte le sue opere tutti io me ne stavo tranquillo qua nel mondo delle ombre bello tranquillo me ne stavo e che cosa succede non appare sul grande web sul vostro grande web che è un meraviglioso mondo virtuale non appare un video di un certo Serafino Massoni intitolato Gianfranco Fini su youtube e noi ce lo siamo visti perché qua li vediamo tutti i video che appaiono sul grande web e che cosa dice Serafino Massoni dice che il vostro presidente della camera onorevole Gianfranco Fini è apparso pure lui sul web nella fattispecie giuridica concreta su youtube perché è stato inaugurato il web site della camera dei deputati l'onorevole Gianfranco Fini è il presidente della camera dei deputati ed ha fatto un video intitolato benvenuti dal presidente e Serafino Massoni ha detto che in quel video dove appare il presidente della camera onorevole Gianfranco Fini c'è il nulla c'è il nulla noi abbiamo fatto un salto così qua io parmenide tutti gli amici quello stesso salt che all'essere a nulla ha dedicato un volume enorme abbiamo fatto un salto enorme e siamo andati a vederlo e il video il video dove appare il presidente della camera onorevole Gianfranco Fini abbiamo visto che è vero c'è il nulla c'è il nulla c'è il nulla cioè l'onorevole Gianfranco Fini ha creato il nulla e quindi ha messo in pericolo tutti gli assetti dell'universo perché cosa succede avendo egli creato il nulla questo nulla si pone come polo antitetico nei confronti dell'essere dell'universo ed ha una potenza sterminata il nulla il nulla creato dall'onorevole presidente della camera dei deputati Gianfranco Fini ha una potenza sterminata lo sapete lo ha detto anche Hegel Hegel parla di immane 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 potenza del negativo e adesso cosa succede adesso ripeto sono stati alterati tutti tutti gli equilibri dell'universo perché con la sua immane potenza il nulla creato da Gianfranco Fini sta risucchiando l'universo provoca lentamente il collasso sapete che gli astrofisici parlano di collasso dell'universo ecco ora è arrivato il momento del collasso dell'universo non è un caso che questo video di Gianfranco Fini sia apparso in un periodo di crisi globale non è un caso che che vadano predicando alcuni che nel 2012 ci sarà l'apocalisse è apparso il nulla improvvisamente è apparso il nulla che ha una forza sterminata e qua stiamo tutti tremando non solo perché Gianfranco Fini creando un nulla diciamo così ha smentito ha smentito la nostra certezza che nulla non c'è fosse l'essere è il non essere non è anche perché adesso l'universo collasserà verrà risucchiato dal nulla che ha una potenza immane come diceva Hegel immane potenza del negativo allora qua cari amici cari amici del web voi che che avete tanto potere sulla sulla pubblica nel condizionamento dei vostri uomini politici se non volete se non volete che l'universo collassi collassi nel 2012 perché lentamente sta collassando viene risucchiato da quella video piazzato da Gianfranco Fini su YouTube quel video lì è il nulla e sta risucchiando l'intero universo ed effettivamente c'è il pericolo che nel 2012 l'universo ci è stato risucchiato completamente da questo nulla da questo nulla e quindi ci sia l'apocalisse che vanno predicando varie sette religiose allora resta soltanto una soluzione cari amici del web questo nulla va eliminato voi dovete dovete insistere insistere sul sito della camera dei deputati affinché questo video di presentazione dell'onorevole video di presentazione del presidente Giancarlo Fini venga tolto il nulla va tolto perché se no piano piano questo video che rappresenta il nulla si risucchia tutto l'universo io mi sono messo in contatto pure con Emanuele Severino anche se Emanuele Severino è disperato questo video questo video rovina tutte le sue pubblicazioni quindi vi raccomando giovani del web datevi da fare e andate sul sito della camera dei deputati e dite di togliere di toglierlo quel video lì perché quel video lì è pericolosissimo farà scollassare piano piano l'universo e veramente si verificherà nel 2012 l'apocalisse che viene predicata ormai da diverso tempo e da diverse fonti va bene cari amici sono apparso io Parmenide di Alea sono apparso sul web per il vostro bene datevi da fare in maniera che non si verifichi peggio tanti saluti da Parmenide di Alea che se ne ritorna nel mondo delle ombre